marco ciao hai pubblicato su facebook un post in cui dici il video è nato per gioco grazie al progetto che realizzato per agrigendo vendiventi e la sala degli iscrittori bene il video nato per gioco adesso è in finale a mosca complimenti parlaci di questo video beh intanto grazie grazie perché è stato un risultato veramente molto bello oltre che importante ma anche soddisfacente è stata una bella soddisfazione arrivare a questo festival in russia perché questo per me è l'undicesimo video che porto in una finale di un festival internazionale e quindi per me è grande motivo di grande orgoglio ci tengo particolarmente più che altro perché si parla di di agrigento quando si parla di casa dove sono nato e cresciuto è chiaro che sempre un valore particolare perché è un video che nessuno mi ha commissionato perché questo video è nato grazie al progetto che ho realizzato per la strada degli iscrittori e agrigento 2020 quindi grazie a queste alle immagini a chi mi aveva dato questo compito ho realizzato quest'altro video con le immagini che avanzavano diciamo quindi con le immagini più belle di questi posti meravigliosi di una parte della provincia sarebbe molto molto bello raccontarla tutta e spero di poterlo fare al più presto possibile quindi abbiamo partecipato a questi questi festival su sfondo turistico che hanno una tematica turistica quindi adesso aspettiamo l'altro esito che arriverà tra un po di mesi un altro in russia l'ultimo ad Abu Dhabi a luglio vediamo vediamo come va insomma è nato per gioco e per gioco andremo andremo avanti su questa strada l'obiettivo è quello di farne un altro dopo agrigento 2020 che adesso quest'anno all'inizio dell'anno insomma è tornato online sui social adesso questo di qua la soddisfazione più grande non è tanto il festival ma il fatto che il video poi torni a girare quindi che ancora ci siano persone che non l'abbiano visto e quindi che ci sia una ricondivisione sono molto contento che questo che questo accada perché noi dobbiamo valorizzare quello che quello che abbiamo e quello che è stato fatto quindi quindi sono molto molto contento e spero entro l'estate spero nella Sicil Farm Film Festival quest'estate che è il festival che dirigo di cinema da quattro anni questo è il quinto e spero di presentare un nuovo video su agrigento perché è quello che vorrei fare